Benvenuti nel nostro canale curiosità dal mondo. Si sa dove si nasce ma non si sa dove si muore e molti si chiedono anche come far sparire la propria carcassa. Tumulata sotto tre metri di terra? Bruciata sulla pira come a Calcutta? Spedita nello spazio come un pacco postale? Oppure semplicemente gettata in mare in un sacco nero ai pesci? Qui di seguito esplodiamo. Una delle curiosità che ci arrivano dal mondo è più specificatamente da una città degli Stati Uniti chiamata New Orleans. Caso numero uno. Faresti davvero di tutto per esaudire l'ultimo desiderio di un amico? Quando il loro collega amico Graham Parson tirò l'ala a causa di una overdose di morfina, Paul Kaufman e Michael Martin seppero fare molto di più. Parson aveva rivelato loro che alla sua morte avrebbe voluto essere cremato e le sue ceneri le avrebbe volute spargere a Joshua Tree. Il problema più grosso era che avrebbero dovuto trasportare il suo cadavere su un aereo fino a New Orleans per il funerale e questo non era per loro fattibile. Cosa si inventarono i due geni? Portarono la carcassa del loro amico in auto fino a Joshua Tree, vive hanno versato 19 litri di benzina e le hanno dato fuoco. La coppia di geni è naturalmente arrestata, multata di 300 dollari. Ovviamente prima di tutto questo hanno dovuto pagare anche i costi del funerale per un totale di 708 dollari. Il loro amico Parson ringrazia i due geniacci e se la ride pure. Arrivederci alla prossima puntata.